L'estate sta finendo ma noi siamo felici perché riprendono i corsi di teatro e di danza e quest'anno per la prima volta anche di musica, tutto in sicurezza. Se i messi di isolamento ci hanno insegnato qualcosa è proprio quanto sia importante l'arte nelle nostre vite e quanto sia bello stare insieme. Nei nostri corsi vogliamo fare proprio questo, crescere nell'arte e condividere le nostre passioni. Quindi vi aspettiamo martedì 22 a partire dalle 16 per darvi informazioni e per delle lezioni di prova. Allo spazio Nobel per la pace di San Demetrio, non mancate!